Oggi è il quarto giorno di pulizia della strada di Campo Imperatore, dove il prossimo 12 maggio passerà il Giro d'Italia. La provincia, che è competente per quella strada, ha già iniziato la pulizia. Il presidente Angelo Caruso conferma che i mezzi sono già in azione e operano per tutta la giornata. C'è molta attesa per l'arrivo sul Gran Sasso della Carovana Rosa, che passerà in un paesaggio bellissimo e accompagnato dalla neve, che è caduta copiosa in quest'ultimo periodo. E proprio ieri sera è arrivata la notizia che tutti attendevano da parte del centro turistico. La stazione di Campo Imperatore, dove si può ancora sciare, uno dei pochi esempi nel centro-sud, chiuderà i battenti proprio il 12 maggio, con l'arrivo del Giro, a conclusione di una stagione splendida e con tante presenze, seppur partita in ritardo per l'assenza della neve, che poi è arrivata per fortuna in grande quantità. La neve non sarà un'intralcio, ha già dichiarato Maurizio Formichetti di RCS, e come si ricorderà anche il grande pirata, Pantani, corse sul Gran Sasso, tramuri di neve. Speriamo che la neve continui a rimanere ancora fino al 12, come adesso è eccezionale. Speriamo che non succeda qualche cosa di imprevisto, piogge oppure alzamenti imprevisti di temperature, però insomma dovremmo arrivarci. A questo punto sono abbastanza fiducioso perché abbiamo neve abbondante e di ottima qualità. Oggi è una giornata stupenda sopra. Ecco, c'è una grande organizzazione, tutto è in fermento, sarà tutto pronto, la provincia già sta pulendo la strada, quello è fondamentale? Beh, è importante perché è onere della provincia pulire la strada, so comunque che stanno lavorando con tre turbine già da tre, quattro giorni, quindi immagino che non ci dovrebbero essere problemi. A Monte, se serve, gli diamo una mano anche noi come centro turistico, come abbiamo sempre fatto, per aiutare a pulire la strada, però insomma dovremmo essere a posto. Non è certo la prima volta che il Giro arriva con la neve, voi avete voluto mettere una foto di Pantani che corse proprio tra due muri di neve. Beh, quella è un'edizione storica del Giro d'Italia, Pantani fece un'impresa eccezionale appunto fra due muri di neve e quest'anno ne avremo ancora di più, penso, di neve, da far vedere. Colpo del knockout, uno scatto secco dopo essere stato in fuga con Goti, il knockout, siamo con un primo piano di Pantani, Pantani che taglia il traguardo, vince, alza il braccio.